Scuola, società civile, imprenditoria. Nasce dalla sinergia tra questi tre soggetti il nuovissimo progetto che rivoluzionerà l'immagine del Festival degli Aquiloni di Rosà, manifestazione internazionale capace di attirare ogni anno migliaia di visitatori. Protagonisti il comune, la proloco di Rosà, l'ente di formazione Irigem e la di Tarbos di Solagna. I ragazzi inizieranno con studiare, ricercare come è nato l'Aquilone, un percorso temporale e anche spaziale nel mondo per capire cosa l'Aquilone rappresenta in tutte le culture e da questo traeranno lo spunto per sviluppare, per dar voce alla loro creatività e proporre delle immagini, dei video, anche addirittura un documentario per quanto riguarda tutta la storia dell'Aquilone. Ai ragazzi di Irigem sarà affidato il compito di studiare nei minimi dettagli l'immagine del Festival. Dovranno dare spazio alla creatività, realizzare in pratica un manifesto e un pieghevole e poi anche un video che racconti non solo l'evento nei due giorni della festa, ma anche tutti gli step intermedi che portano i ragazzi a realizzare concretamente i vari lavori. Ma non solo, gli allievi di Irigem collaboreranno a stretto contatto anche con il mondo dell'impresa, grazie alla sinergia con la ditta Arbost di Solagna. Realizzeranno dei prodotti da cartoleria semplici, realizzeranno dei giochi per bambini che hanno a che fare con il mondo del vento e della fantasia. Ancora una volta dunque gli allievi di Irigem tornano a collaborare con il comune e la Proloco, pronti a dare loro piena fiducia. Hanno a disposizione tutto il festival perché cureranno la parte immagine, grafica, magliette, quindi stampe. Hanno tutto, siamo nelle loro mani. Abbiamo delle grandi risorse nel territorio, dobbiamo sfruttarle tutte, questa è una risorsa che veramente va sfruttata fino in fondo.